buongiorno signori comandiamo ci sono le nuove opzioni qua su sull'app cos'è sta roba i tuoi spettatori ok beh niente comandiamo allora ci facciamo una diretta un po diversa oggi che dite vedete quanti quanti siete ciao roby 12 ci facciamo una cottura assieme ciao ciao caro giovanni ciao luca buongiorno ragazzi è successo che avevo un corso in skype programmato il ragazzo ciao giovanni non si è presentato da un'ora e io devo cuocere gli impasti che sono pronti e fatti dal giorno prima spero che non gli sia successo niente non risponde ovunque non dico ovviamente chi è spero che magari riveda il video sia a posto mi chiami ma d'altra parte io da ieri quando faccio un corso in skype ragazzi chi l'ha seguito lo sa funzionano così bene perché io condensato in quelle due tre ore in cui stiamo assieme tutto il processo e quindi è tutto pronto la pagnotta è pronta io la stagliore prima l'impasto lo faccio il giorno prima insomma prima io lavoro un giorno e mezzo per quelle tre ore e quindi adesso è tutto pronto la pagnotta è pronta devo cuocerla ciao marco ciao luca quindi ho detto cuociamocela assieme ok che dite allora 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 stendiamo e cuociamo nel new laboratorio com'è allora guardate dove vi metto dove vi metto finalmente c'è l'imbarazzo della scelta lasciate perdere un po' le ultime cose da rifinire ma ci siamo sono molto 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 contento ovviamente eccoci qua ciao giuseppe ciao patrizia ciao a tutti allora stendiamoci questa bella pizzetta io non vi vedo eh vedete bene sì che vedete bene vero sì che vedete bene anche bello qui ci sono i carottoni di farina anzi li metto dall'alto che si vede ancora meglio qua mi è appena arrivato un bel carico di pelati quindi si vede ancora meglio voilà eccoci qua allora taglietta 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 goccino di olio un bel carino dei corso pieno dove si vede ancora meglio non ci vedete ancora giustizzerni guardate che bella, possiamo spegnere la cella, perfetto, com'è? guardate che bella, risposta maema, così la moglie non può più lamentarsi che risparsi per tutto, meno male che c'è mia moglie online, altro che lamentarsi ragazzi belli, altro che lamentarsi, donne, donne, bravo Emanuela che si è preso il giova pizza, ciao Tommaso, ciao ragazzi, allora, pagnotta, ok? Andiamo dentro nella semola, Opla Grazie. Siete bene ragazzi? E adesso vi faccio vedere una bella cottura in forma di casa. Ecco, facciamo una rossa semplicissima. Mi sa che si sente ancora l'epo, eh? Pre cottura, poco pomodoro, mi raccomando. Mettiamole un altro bel goccino. Teglia romana, mi raccomando, condimento fino ai bordi, eh? Non vogliamo il cornicione, ok? Ok. Adesso andiamo in forma. Vedete com'è Giargianelli? E qui metto. Che peso è il panetto? Inutili, noi ingegneri siamo tutto a fare. Filo, super multitasking. Lecchino. Ciao, ma che bel laboratorio. Ciao Roberto, eh? Per un pelo non sei finito qui, eh? Ciao Federico. Per un pelo non sei finito qui. Opla. Forno di casa, ragazzuoli. Eccolo lì. Qui c'è anche la Casartelli. Eccola qua. Andiamo a infornare? Voila. Se mi metto anche sul tre piedone grande adesso, così, ve la vedete bene. In un momento che ho sposto il tagliere. Così, quando lavoro ve la vedete in diretta, eh? Venite a ve con moi. Ciao, Lorenzo carissimo! Ciao, la pizza da Michele. Perché mi piace fare il consulente. Ecco perché non ho un locale tutto mio. al momento è una cosa che non mi stuzzica ma anche se ho davanti la porta di casa la coda di persone che mi vuole avere in un locale con loro ma al momento non ci penso minimamente perché mi piace fare il consulente eccoci allora che mi dite ragazzuoli? vediamo un po' di commenti e la casa Nicola Santi voglio il libro? voglio il libro? voglio il libro ciao Nicola unico modo per avere il mio libro è venire a fare un mio corso altri modi non ce ne sono mi spiace Lena Gallotta che peso il panetto 600-650 grammi dipende dai gusti ciao Massimiliano Alessandri l'unico modo per avere vedete qui il laboratorio e la taverna adesso ancora un po' sgombra allestiremo la pizza da Michele ma la pizza è il cognome no Michele ti chiamerei certo volentieri quando vuoi dicevo l'unico modo per fare i miei corsi per avere il mio libro è fare i miei corsi ragazzi quello non è una cosa non è una dispensa messa in vendita non mi piace non era il mio scopo non mi interessa è un qualcosa che viene data ai miei corsisti ciao Cristian come andiamo a quanti gradi sta cuocendo ragazzi qui cuociamo 250-280 in un forno di casa per farvi vedere quando si sa fare le cose anche in un forno di casa che cosa si può combinare ciao Andrea come andiamo Romagna mi ricordo ciao Filippo Sesto oh no ma è più mi ha dato la ricetta della piadina è vero tu ti stavi laureando in scienze in biologia mi sembra qualcosa del genere o sbaglio adesso tra un po' diamo un occhio alla pizza e le diamo un giretto un 180 beh in bocca al lupo comunque ragazzi uno dei motivi per cui mi piace fare questo lavoro è a parte che io ho sempre spiegato anche in altri campi mi sono sempre occupato di spiegare cose diciamo così chi è? chi è? Michela Baraldi ciao Giovanni con la tua capacità comunicativa ti vedo bene in Masterclass Online da poter acquistare anche dall'estero qui all'università negli Stati Uniti stiamo creando tanti corsi online una persona compra il pacchetto al corso completo fatto da 5 o 6 classi my dear Michela English is not so good it's quite good but it's not the best English you can find but I have I have thought about making something also in English I am I am going to do something in Italian ok some Masterclass online some also some online courses and I'm thinking about I'm also thinking about to something in English it's not so easy because I'm already totally full of work it's not so English but it's it's a project that I have I am thinking about since a long time so I don't know I don't know we will see we will see and you you I am going to automatico alle persone, voi che siete online, siete online il 99% di voi, poi c'è sempre qualche hater nascosto in mezzo, il 99% di voi siete persone che condividete il mio modo di fare, le cose che dico, condividiamo idee comuni su tantissimi campi, è veramente incredibile, io faccio centinaia di corsi con le persone e mi stupisco sempre di come poi quando mi trovo di persona con i miei corsisti, qui c'è Giuseppe in linea, Christian, è come se ci si conoscesse da una vita, si dice le stesse cose, si ha stessi pareri e stesse opinioni, non solo nella pizza, sulla pizza, ma su tanti altri argomenti della vita e quindi questo combaciare di affinità è una cosa che mi piace molto e del motivo per cui continuo a farla. Ciao Vito, ciao Vito, ciao caro, e continuo a farlo in questo modo, è estremamente faticoso, però mi piace, non ti preoccupare Gabriele, è lì che va, conosco il mio pollo, conosco il mio forno, chissà quando esploderà questo qua, casalingo, poi lì c'è quello professionale. Sì, domenico, gli hater nascosti ci sono sempre. Ragazzi, io avevo carissimi amici che sono completamente scomparsi da quando ho iniziato ad avere un certo riscontro, dai, diciamo così. Sono scomparsi, non ho mai capito perché, senza che sia mai successo l'ora, senza che io ne abbia mai fatto niente. La gente è strana, la gente è in media, le persone sono dei perdenti, sono degli odiatori, sono dei rancorosi e quando vedono magari qualcuno che riesce a fare qualcosa che loro non riescono a fare, lì parte l'odio. Fa niente quanto sacrificio, quanta fatica magari ci sia da quella parte e quanto magari meno ce ne sia dall'altra, però funziona così. Eh sì Giovanni, sì, sì, sì. C'hai ragione Gabriele, diamogli un occhio. La controlliamo sta pizzetta, devo solo tentare di non sbattere la portiera sul treppiere. Metto i guanti, voilà, dovrebbe vedersi. Ecco qua, ce l'ho fatta, sì, guardate che bella, guardate come esplosa, un forno di carne, deve andare ancora, diamo un occhio sotto. Eh, vi dicevo che conosco il mio pollo, avete visto come esplosa, anche dallo sviluppo che abbiamo visto. Poi vi faccio vedere come voglio lavorarla, perché qua andiamo semplicemente di pomodoro, rigano e olio. Quindi capito quello che ti dicevo. Eh sì, sì, sì. E Ale, mi spiace, chi è che c'è, chi è che c'è? Gabriele, Tommaso, Simone, ciao a tutti, posso fare l'attività nell'Alfa Pizza e braccia a gas? No Luca, mi spiace, no. Riccardo? Sì, no, non tutti, alcuni. Eh, non lo so, Alessandro, Aledì Abolantani, manco io lo so, eh, non so che cosa dirti. Ciao Giuseppe, sono contento, sono contento, buone pizze. Ale, poi una sera ci vediamo. Sì, 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 Michela, è proprio l'atteggiamento, la filosofia anglosassone della vita calvinista, direi quasi, che è completamente diversa. dalla nostra. Grazie Filippo, ti ringrazio. Salve questo. Sì, è un diretto Giovanni, è un diretto, direttissimo, eh? Grazie, adesso andiamo a rivestrarre se non la bruciamo. Mi raccomando, non abbiate paura a cuocere la pizza, eh, ve lo dico sempre. Dico sempre i miei corsisti. Se la teglia romana non la cuocete bene, guardate, è pazzo diretto che sviluppo. Sì. Ancora. Ciao Alessandro Viganò, ciao Paola Dan. Io sono miei, trovate un modo di pensare, non trovate quando si gira, si preghi è quasi molto razionale, quindi si incazza, non capisco bene il perché, di parte proprio l'odio. perché ragazzi, il nostro cervello non è adatto a ragionare in maniera razionale. Noi siamo fatti, wow, così vedete sei menti dal basso. Noi siamo fatti per ragionare in maniera irrazionale, per luoghi comuni, non vogliamo uscire dalle nostre zone di comfort. Se ci rendiamo conto che qualcosa non va in quello in cui abbiamo sempre creduto, impazziamo e non lo accettiamo. Funzioniamo così. Nicola Sansevero, ricorda che in questi giorni ti richiedo per definire il periodo giusto per la consulenza? Sì Nicola, il problema è che si è riempito luglio, agosto, settembre, si sta riempiendo ottobre, io quando vi dico di prenotarvi non ci credete. Comunque chiamami. Ok, sotto ci siamo, sciogliamo un po' sopra, ok? Grazie Giuliano, grazie mille. Adesso magari li porto di qua, così vi faccio vedere all'uscita della pizza. Ciao Antonio, ciao Consuelo, ciao ciao ciao. Facciamo asciugare bene. Oh ciao Luca, ciao Leonardo Di Vecchi, grazie, 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 grazie. E voi fate bene a seguirmi, siete de Vongustai. Ciao Filiberto, 40x30, 600, 650, dipende. Adesso vi sorvinete anche a Giova Pizza che se la mangia in diretta, così imparate. Oregon. Quello che c'è dentro non è quello del supermercato. trabicolo che regge il cellulare però non è cambiato, trabicolo? Ammazza, sono... Mi chiami trabicolo dei tre piedi della Manfrotto? Ma sei pazza? Eh sì, per farlo asciugare, cioè tre piedi di Manfrotto sono diventati dentro a piccoli. Guardate che bello. Guardate, tutta aria, eh? Siete bene? Yes! Guardate quanto è alta. Tutta aria qua dentro. Adesso facciamo così. Pomodoro ancora, lo lasciamo dentro poi solo altri due minuti, per fare una bella marinara. Non metto l'aglio, metto solo l'origano. Ovviamente adesso non spargo con le mani, se no è finita. Decidiamo di cucchiaio, di cucchiaio. Facciamo bella pomodorosa, andiamo di origano. Poco, solo per farlo assorbire, adesso lo metto pochissimo in forno e poi ne metto ancora un po' fuori a fresco. Olio. Andiamo di nuovo un attimo in forno, giusto per farlo asciugare. Guarda. Nicola non c'è problema, tu chiamami, scrivimi, ci mettiamo d'accordo. Abbiamo portato giù anche un piattino, mi sa, eh? Eh, 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 no, perché adesso devo far vedere un minuto, no? Scusate. Devo ancora organizzare i piatti dove sono finiti, mannaggia la miseria. Sì, Tommaso Filonzi, sì, 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 è esattamente come dici, è esattamente come dici. Vabbè, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Non è solo nessi da fare, vogliamo fare del proprio minuto, essere sempre più onesti possibile. e il resto... il resto niente. Su quello... sulle cose su cui non abbiamo capacità o giurisdizione si lascia perdere. Cosa volete fare? Oh, siete tutti in posto a pranzo, eh? Spiriamo i cento online. Olè! Facciamo asciugare ancora un po', perché il pomodoro devi portare dentro tanto umidità, eh? Arriva! Quanto è che siamo in diretta? Un quarto d'ora? 23 minuti? Ammazza! Ola! Caduta la paletta! Ciao Riccardo Di Pietro, buongiorno! Ragazzi, non abbiate paura di cuocere bene la teglia romana. Non abbiate paura. Cosa ne pensi della classica pizza in teglia della rosticceria napoletana? E... Che è una roba molto particolare, un mischione tra varie tecniche. C'è una domanda di saluti da Melbourne. Wow, saluti da Australia, è un spettacolo. Ragazzi, poi se volete trucchi personalizzati, venite a fare un mio corso. Quante volte ve lo devo dire? Voilà! Com'è? Vi piace? ok adesso un altro bel giro d'olio origa volete venire con me ad assaggiarla? è bello venite qua allora vi metto sull'altro treppiedino sei un po' lontano e lo so Gabriele venite 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 che vi aspetto ola com'è? la metto qua ola allora sentite il rumore pronti? pronti? cottura in forno di casa non so se si riesce a zoomare si guardate qua cottura in forno di casa davanti a voi non so se mi spiego tagliata a caso neanche nel punto più spesso e mo' vi beccate il giovasaggio oh che spettacolo guardate ragazzi ci siete? vado va bene Angelo si ok adesso ti banno non sapete neanche di cosa parlate parlo di Angelo sentite il crunch oh il nuovo vicino fino a che ora sei a casa Alessandro? ma Luca ma non ma non rispondere neanche non serve a niente del crunch c'è è lui ma Gabriella adesso ti pare che è una spoglia ragazzi questo era un 90% zero esatto Domenico un 90% zero e un 10% integrale vedete come bello Bruno? mmm Michela mi spiace sentite lo scroc ma oltre allo scroc allora sotto lo scroc ma guardate la scioglievolezza della pasta vedete come si apre come si sbricciola adesso faccio un disastro scusate vedete come si sicilo 24% l'elio è romano a Melbourne sì Nicola qui siamo a 90% vicino non mi ha più risposto volevo portarsi mezza teglia vabbè ragazzi mentre chiacchieriamo io magno sì è una nuvola non è come non mangiare niente basta che leggete ormai le centinaia di recensioni dei miei corsi e consulenze e non devo dirlo io ciao Marco grazie Riccardo no Ciro in questo caso no mamma che buona ragazzi venite a provare prendete una consulenza o un corso e vedrete che non vi sbaglierete vedrete che non vi sbaglierete basta guardare ripeto le centinaia di recensioni non sto facendo sforzo la massa è buona ragazzi si chiama marketing la fame che vi sto facendo vedere si chiama marketing più avete fame e più venite la giove a pizza allora ragazzoli belli cosa vi posso dire vi faccio vedere un altro trancetto è certo che lo faccio apposta non ho capito che sono scemo mangio solo questo e poi è finito guardate qua cioè vedete come si si sfibra crunch vedete che come vi dicevo se sapete fare tutto come si deve voi potete fare in un forno di casa una teglia romana praticamente perfetta ovviamente dovete capire bene tutti i passaggi l'importanza di ogni passaggio e l'importanza di ogni cosa l'ena dei 5-10 grammi di fresco per un diretto dipende da tante cose la temperatura che chiudi le temperature di mantenimento che hai del tuo frigo un sacco di variabili ecco Filiberto ragazzi non mangio più però mi pulisco le mani e arrivo dico quest'ultima cosa poi chiudiamo quello che chiede Filiberto è una cosa molto giusta intelligente Giova per cuocere quell'idratazione bisogna diminuire le temperature non far allungare i tempi ogni volta che noi vogliamo asciugare un prodotto dall'acqua che abbiamo introdotto all'interno dell'impasto dobbiamo combinare correttamente tempi e temperature quindi giustamente Filiberto dice più un prodotto idratato e più dobbiamo evitare di sparare temperature altissime e accorciare e allungare i tempi perché dobbiamo dare modo al prodotto di asciugarsi e questo è verissimo qual è il problema che questo si può fare entro certi limiti cioè entro certi limiti voi potete accorciare i tempi alzandone temperature oppure allungando i tempi abbassando le temperature perché un prodotto per essere cotto perfettamente cioè per avere la struttura che tutti li riconosciamo che sia la teglia romana napoletana focaccia e via dicendo ha un corretto bilanciamento tra le due cose voglio dire se il panettone si deve cuocere per 45 minuti a 170 gradi non è equivalente a cuocerlo per un'ora a 140 non verrà lo stesso prodotto verrà diverso oppure 30 minuti a 200 lo stesso per la teglia romana con una certa idratazione le combinazioni di tempi e temperature sono quelle lì se per caso voi avete un forno e questo capita non solo ai ai privati in casa ma anche ai professionisti se voi non avete un forno che vi sta dietro un forno performante e quindi dovete allungare troppi tempi perché le temperature non ce la fanno voi iniziate a snaturare la natura del prodotto a snaturare la natura perdonatemi a snaturare le caratteristiche del prodotto e quindi magari lo cuocerete lo stesso però non avrà quelle caratteristiche tipiche che noi vogliamo trovare ok? va bene quasi quasi qua la dividiamo già in tranci e poi mi sistemo va bene ragazzuoli come mai quella alveolatura così larga perché la la teglia romana è fatta così alveolature molto ampie e irregolari va bene ragazzi vi abbraccio come al solito seguitemi condividete prenotatevi per tempo per corse consulenze lo so è ridicolo dirlo lo dico sempre ma adesso rischiate di andare a novembre soprattutto se volete fare consulenze lunghe perché settembre pieno ottobre pieno no no dei buchissimi d'ottobre dei buchissimi e via dicendo quindi niente voglio bene vi assolvo dei vostri peccati nel nome del padre e del figlio di Giova Pizza vi assolvo dei vostri peccati panificatori statemi bene impastate fate i bravi mangiate pizza e seguitemi ciao belli buona giornata ciao ciao